Il seno del mobile 2024 da parte mia rappresenta un altro punto importante di arrivo con questo brand. La caratteristica del letto è quella di aver lavorato su un pannello apparentemente molto semplice, ma in realtà molto particolare, perché le due ali hanno all'interno tutta una serie di fresature, di lavorazioni con queste lame di metallo, mentre le sedute sono sospese con queste gambe molto disegnate con questi raggi che danno caratteristica al prodotto e lo rendono sempre più Bentley.